Sarà un'estate di lavori per le scuole a rettine, oltre 200.000 gli interventi che sono previsti negli istituti scolastici, ad annunciarli l'assessore Alessandro Casi. L'obiettivo primario, spiega, rimane quello di accogliere ai nostri ragazzi in scuole sicure e funzionali, così in questi due mesi e mezzo che ci separano dalla ripresa delle lezioni, daremo avvio ad una serie di interventi in alcune scuole della città. Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare le condizioni delle strutture. I lavori partiranno nelle prossime settimane in alcuni edifici scolastici, in particolare la scuola primaria Severi di Biaccocci, che vedrà la realizzazione di un nuovo manto di copertura che si è reso necessario per risolvere il problema determinato dall'ammaloramento delle attuali tegole in laterizio e la contestuale tenteggiatura della porzione di parete esterna per un importo complessivo pari a 75.000 euro. Nella scuola secondaria di secondo grado Giorgio Vasari di Via Emilia, invece, è previsto un intervento di impermeabilizzazione di una parte della copertura per risolvere il problema delle infiltrazioni di acqua piovana nelle aule scolastiche, anche in questo caso con un importo di 75.000 euro. Stesso intervento a cui si aggiunge il ripristino di una porzione del resed esterno asfaltato per la scuola dell'infanzia Pallanca il largo 2 giugno. Per quest'ultimi lavori il costo è pari a 55.000 euro.